Ciao ragazzi, io sono Angelica, faccio parte della Fashion Concept Model Agency. Oggi sono qui a Roma per girare un video soltanto per voi. Seguitemi sul mio profilo Instagram, Angelica Persichini, o su Facebook. Ciao, sono Anna. Oggi siamo in trasferta a Roma per casting e progetti tutti nuovi in arrivo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessia Tedesco, sono una modella della Fashion Concept. Oggi abbiamo girato questo bellissimo video nella città di Roma e spero vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti e se vi va seguitemi sul mio Instagram, alessia.tedesco-basso. Ciao a tutti, sono Nazanin Purose, una modella di Fashion Concept Agency. Oggi sono a Roma per girare questo bellissimo video e se vi piace seguitemi su Instagram. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Noi oggi abbiamo fatto questo video solo per voi a Roma, nella nostra città. Io mi chiamo Monica e seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su TikTok. Ok Se vi è piaciuto il video mettete like, commentate e iscrivetevi al canale Buongiorno a tutti, sono Sara Biesuz, una modella della Fashion Concept, oggi sono qui a Roma nella mia bellissima città per girare questo video solo per voi e niente seguitemi sulla mia pagina Instagram Sara Biesuz e mi raccomando seguite il nostro canale YouTube e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti